L'archetipo sulle basi della chimica ci impone una rigorosa attenzione. De Angelis, ho saputo che ieri lei ha respinto più della metà degli studenti. Quanto zucchero a me sono il caffè. Ma è venuta una grande problematica. Un segretario di Andeson. Un figlio dell'archetipo. Buongiorno, signore De Angelis. Sono Tudisca per annuncio di domestica. Come soon. Per mattine Humrat. Grazie a tutti. Inizio il minuto in急o.